Buonasera Presidente Berlusconi, grazie per questa intervista. L'Aquila ha chiamato al rinnovo del Consiglio Comunale, all'elezione del nuovo sindaco. Il centrodestra si è presentato unito dopo 15 anni. Ha avuto accesso al ballottaggio, si giocherà alla vittoria, però ha in svantaggio. Si è detto che questo è un modello proponibile a livello nazionale, dopo questi risultati lei ne è ancora convinto? Certo, del resto ricordo che noi governiamo uniti realtà importanti, regioni come la Lombardia, il Veneto, la Liguria, e molti grandi e piccoli comuni. E sono certo che dal lunedì prossimo governeremo molti comuni in più di fronte all'inconcludenza della sinistra e alla direi totale incapacità di governare dei Cinque Stelle. Noi siamo l'unica possibilità di buon governo delle città e i cittadini dell'Aquila e di altrove lo sanno e conoscono la nostra capacità e la nostra concretezza. Quindi mi permette di ricordare che nessuno è riuscito a fare ciò che noi abbiamo fatto nella gestione del post-terremoto all'Aquila. In soli cinque mesi abbiamo consegnato le case a migliaia di nostri concittadini. Pensi che a quasi un anno dal terremoto nel centro Italia gli sfollati aspettano ancora. Non hanno altro che sistemazioni di fortuna. Facciamo un piccolo salto nel tempo. Lei nel 1998 tenne proprio all'Aquila nel capoluogo un comizio davanti a 10.000 persone. All'epoca ancora c'era appunto il Centrodestra Unito. Il candidato dell'epoca, che poi è stato l'ultimo sindaco di centrodestra a oggi, fu definito come la pioggia manzoniana che spazzava via la peste. Ecco, nella situazione di oggi con il candidato Pierluigi Biondi, che metafora si sentirebbe di utilizzare? Ma guardi, mi viene in mente una frase, una frase che abbiamo impresso sulle mura della scuola della Guardia di Finanza, che ospitò il vertice del G8 dopo il terremoto. Una frase, credo, del XV secolo, che chi ama l'Aquila e chi ha gestito l'emergenza del post-terremoto terrà per sempre nella mente e nel cuore. E la frase è questa, l'Aquila bella mai non può perire. E mi sembra una frase che fotografi bene la situazione che si è verificata anche dopo il terremoto. Quindi, vede, se il centrodestra ha trovato l'unità sul nome del sindaco Biondi, è perché è nostro desiderio fare tutto il possibile, tutto il possibile, perché l'Aquila torni alla sua splendente bellezza e nel più breve tempo possibile. E soprattutto che torni ad una vera e piena normalità. E purtroppo, dalla fine del 2011, noi non siamo più al governo, ma fino ad allora, e questo gli Aquilani lo sanno benissimo, abbiamo impiegato tutte le nostre risorse, tutte le nostre energie per accelerare quel processo di ricostruzione e normalizzazione che adesso non sta andando come dovrebbe andare. Parliamo del progetto CASE, i 4.500 appartamenti antisismici realizzati sotto il suo governo dopo l'emergenza. Per le regole dell'Unione Europea sono considerate temporanee, in qualche modo, e alla luce di questo il sindaco uscente, Cialente, con cui lei ha lavorato, ha conosciuto, dice che prima o poi andranno abbattute. Le chiedo sia da imprenditore sia da uomo di governo se è d'accordo o se pensa che andrebbero valorizzate diversamente. Le ricordo anche che ci sono stati però dei difetti di costruzione in alcuni casi. Guardi, io credo che gli abitanti di queste case stiano lì e stiano benissimo. E poi sul fatto che alcune abitazioni, comunque mi sembra che parliamo del 2%, o qualcosa del genere del totale, si siano registrati difetti di costruzione, ma io dico anche di manutenzione, è una cosa che io non accetto, di cui mi dispiace moltissimo. Ma che si parli di questo e non del fatto che in poche settimane, in cinque mesi, migliaia di persone hanno avuto un tetto antisismico, solido, decoroso sulla testa, è davvero uno scandalo. Questo non sarebbe potuto avvenire senza un grande impegno da parte nostra e senza di noi migliaia di famiglie avrebbero passato l'autunno e l'inverno al gelo, esperienze che purtroppo hanno dovuto vivere molti nostri concittadini del centro Italia. Quindi tra un margine di errore del 3% o meno, costruzione o manutenzione, nell'edificazione delle case che abbiamo fatto in meno di cinque mesi e far passare l'autunno o l'inverno a temperature decisamente solto 3 gradi, io preferisco il margine di errore del 3%, perché chi non fa non sbaglia e ovviamente tutto è sempre perfettibile. Ma io rivendico con orgoglio quanto fatto per l'Aquila dopo il terremoto. Passiamo alla cosiddetta lista di nozze e di monumenti che lei chiese in adozione dai governi stranieri. Otto anni dopo la Russia di Putin ha finanziato la ricostruzione quasi completata di un palazzo storico che ospiterà una fede del Museo Maxi. Gli Stati Uniti di Obama promisero delle borse di studio che non sono mai state finanziate. Se lo aspettava quando con il Presidente Obama fece quel giro del centro storico terremotato? No, guardi, io posso solo dire che vedrò di ricordare al prossimo ambasciatore statunitense l'impegno che formalmente aveva assunto Obama per l'Aquila. Bene, ci ha dato una notizia, ci fa piacere. Il problema del lavoro, l'Aquila, un territorio come l'Aquila, lo accusa in maniera particolare. Si dice che turismo, cultura, storia, siano le risorse principali di questo territorio. La città sta investendo nella fibra ottica, nel 5G. Lei, sempre da imprenditore, glielo chiedo, queste tecnologie possono portare a uno sviluppo industriale oppure bisogna solo preoccuparsi dell'arte, della cultura e della storia? Ma guardi, io credo che le due strategie possano e che anzi debbano convivere. La cultura, la bellezza ed il turismo sono una delle principali ricchezze del nostro paese e in particolare della vostra regione e anche dell'Aquila. E nonostante le ferite che sono ancora aperte nel patrimonio artistico credo che investire in questo settore, nella vostra città, sia giusto anche da un punto di vista, come dire, simbolico per rendere all'Aquila ciò che il terremoto le ha strappato. Al contempo, internet e l'economia digitale sono il nostro futuro e sono, tra l'altro, uno dei canali di sviluppo per il settore turistico. Ma non solo. Penso che l'Aquila, come l'Italia tutta, debba investire sulla ricchezza del suo passato e contemporaneamente sulle potenzialità e le opportunità del futuro. Direi che, in generale, la nostra ricetta per creare lavoro è quella che noi adotteremo quando saremo al governo, è sempre quella, ed è l'equazione liberale dello sviluppo. E si compone di tre ingredienti. Meno tasse sulle famiglie, meno tasse sulle imprese, meno tasse sui lavoratori. Questo genera più benessere per le famiglie che consumano di più e quindi le aziende producono di più e creano più posti di lavoro e anche più entrate nelle casse dello Stato con cui lo Stato può aiutare chi è rimasto indietro. I nuovi lavoratori, a loro volta, consumeranno e via di seguito in un circuito che è un circuito virtuoso e che ha fatto molto bene là dovunque sia stato applicato. E anche per questo tutti i nostri sindaci, i sindaci di Forza Italia, hanno abbassato quelli che ci sono e abbasseranno quelli che verranno le tasse locali come hanno appunto già fatto quelli che sono al governo delle città e appena torneremo al governo del Paese io garantisco che con l'applicazione della flat tax, con la seconda moneta, con quella rivoluzione grande di tutto il Paese che dovrà avere veramente la capacità di una riorganizzazione scientifica globale, noi faremo del bene a tutti gli italiani per prima cosa appunto riducendo le tasse, ma poi riformando la giustizia, riformando tutto il sistema fiscale e per esempio anche nella giustizia facendo sì che chi è entrato in un processo e non si entra mai solo in un processo, chi entra in un processo ci entra con il padre, la madre, la moglie, i figli, gli amici più cari e si rovinano le relazioni sociali, si rovinano le relazioni economiche, bene, noi arriveremo a far sì che chi è entrato in un processo viene considerato innocente, quindi assolto, non possa avere contro di sé un appello da parte dei PM che noi chiameremo avvocati dell'accusa che dovranno avere gli stessi diritti, gli stessi rapporti con il giudice degli avvocati della difesa e questo sarà una cosa importante. Un'altra cosa che mi permetto di ricordare importante sarà che non permetteremo questa distorsione della democrazia, cioè i parlamentari eletti in un gruppo politico, in una parte politica, non potranno andare da altre parti pena il fatto che perderanno il loro ruolo di parlamentari, così come, per esempio, daremo pensioni di mille euro almeno a tutti coloro che hanno le pensioni più basse, così come daremo le pensioni a quelle persone che lavorano più di tutte, che lavorano la sera, il sabato, la domenica, l'estate, non vengono mai pagate, che sono le nostre mamme. E poi interveremo anche su quei 10 milioni e 600 mila cittadini italiani che sono in quella che l'Istat chiama la povertà relativa, cioè famiglie che hanno delle entrate che non arrivano al limite di dignità previsto dall'Istat. Il limite di dignità, per esempio, per una famiglia con padre, madre e due figli è fissato a 1.155 euro. Quindi lo Stato si impegnerà a dare un contributo pari alla differenza tra quello che entra nella famiglia, per esempio, se lavora, ci sono 1.200 famiglie in cui lavorano solo le donne che prendono 600 euro in media al sud, 700 al centro e 800 euro al mese al nord. Ecco, la differenza sarà tra queste cifre 1.155 euro. Questo è qualcosa che lo Stato potrà sostenere, mentre è assolutamente insostenibile quella favola del reddito di cittadinanza messa in giro dai 5 Stelle. Quindi io le dirò che sono molto ottimista per quanto riguarda il secondo turno delle elezioni locali in queste 11 città che vanno al voto. e quindi noi governeremo molte di queste città. Ma sono anche molto ottimista per le prossime elezioni nazionali che io spero avvengano il più presto possibile, perché dopo quattro governi che non sono stati eletti dai cittadini, è importante che i cittadini possano fare la loro scelta. Io sono sicuro che con la mia presenza in campo Forza Italia supererà il 30%, come è stato già nel 2008, e che insieme alle altre forze del centro-destra potremmo superare il 50% e assumere la responsabilità di governare il Paese. E al governo del Paese noi abbiamo preparato una straordinaria, totale rivoluzione che farà sì che gli italiani possano uscire da quell'oppressione fiscale, da quell'oppressione burocratica, da quell'oppressione giudiziaria che li tiene in una situazione che non è paragonabile a nessun altro Paese democratico e civile. Benissimo, per chiudere, parlo del terremoto attuale 2016-2017, la gestione travolta dalle proteste, diciamo così, dopo un anno poche casette, sono arrivate pochi moduli estratti con sorteggio, che sentimenti le suscita? E se va rivalutato il modello L'Aquila, che è stato deprecato anche di recente da esponenti di governo, si è detto non faremo come fatto all'Aquila, le dico, Bertolaso ha risposto non ne sono capaci. Guardi, delle critiche strumentali di questa sinistra non mi sono mai curato più di tanto. Quello che posso dirle è che se da un lato mi inorgoglisce, mi fa molto piacere, ricevere dei messaggi a dotto anni dal sisma di persone dell'Aquila che mi ringraziano ancora per quanto abbiamo fatto all'epoca, dall'altro lato mi ferisce leggere le affermazioni di abitanti dei comuni del centro Italia distrutti dal terremoto l'anno scorso che si domandano perché non si sia fatto per loro ciò che si è fatto per gli Aquilani. Ecco, dopo il sisma del centro Italia per la verità noi ci siamo messi a disposizione e se ci avessero chiesto aiuto avremmo messo sicuramente la nostra esperienza a disposizione dei cittadini del centro Italia però questa sinistra come al solito non ha voluto neppure ascoltarci e i risultati ahimè sono sotto gli occhi di tutti. Le chiedo un'ultimissima cosa glielo chiedono tutti 30 visite all'Aquila da Presidente del Consiglio quando tornerà per la 31esima? Guardi io non sono più tornato all'Aquila dopo di allora perché non volevo essere accusato di fare qualcosa a livello propagandistico perché qualcuno dell'Aquila mi ha detto che se io fossi tornato all'Aquila mi avrebbero portato in giro come la Madonna quindi io ho tanta voglia di tornare all'Aquila so che adesso per merito dei privati anche il centro dell'Aquila è un grande cantiere quindi spero di poterci tornare abbastanza presto trovando un'Aquila ritornata pienamente alla vita in modo anche da poter abbracciare tante persone che ho conosciuto in quell'occasione che ancora sono rimaste in contatto con me mi scrivono io rispondono e mi manifestano una grande voglia di abbracciarmi a casa loro grazie Presidente Bellosconi molte grazie a lei e tanti auguri per le prossime elezioni grazie a lei grazie a lei